Ciao, in questo video faremo una staffetta in velocità. Allora, la corsa velocissima sulla striscia rossa, saltiamo in buca, la prima bimba che tocca al muro, la Dele alzerà un braccio e parte la seconda, va bene? Ok, la prima dell'ultima squadra che tocca al muro ha vinto. Rifacciamo questa cosa per tre volte. Le capitane sono Bea ed Eva. Sentite che ho la voce strana? Sì, ho giù la voce, ho un po' di raffreddore. Aspetta che mi metto di qua, sennò non vedono. Irene, Joy, Claudia, Franci, Greta, Annika. Ok, ecco la squadra di Eva ed ecco la squadra di Bea. Ci siamo? Benissimo, pronte! Allora, pronte? Attenzione! Vedete Adele in posizione, quando abbassa le braccia voi potete partire. Vakata, godine! Dai, papà! Dai, papà! Dai, papà! Dai, papà! Dai, papà! Vai, papà! vai claudia claudia mai mollare fino alla fine ok chi ha vinto ha vinto la squadra di Bea va bene pronte per la seconda volta hai capito claudia eccoci pronte per la seconda manche dai 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 Eva dai Eva brava vai Eva dai 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 insisti dai Greta recupera recupera Greta vai 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 dai Franci claudia ecco claudia claudia bravissima dai claudia vai claudia vai claudia vai joy vai Irene recupera Irene e vince per la seconda volta la squadra di Bea applauso perfetto quindi siamo 2-0 è inutile fare la terza manche ciao brave brave tutte lo stesso brave tutte lo stesso So.